Il Palio è la più bella festa che abbiamo a Gambassi, il Palio è gioco, il Palio è storia, il Palio è vita. Senti le voci, senti parlare, specialmente il giorno dopo i giochi, è tutto un fervore di commenti, di polemiche. Quanta forza e voglia di vincere permea tutti i Contrada Ioli. Loro sono il motore di questo Palio. I Contrada Ioli, i capitani di Contrada, i presidenti. Questo attaccamento alla Contrada, questa voglia di dare una mano, è il motore. Ci sono persone che vivono veramente notte e giorno per costruire il carro, per allestire le scenette, per dare una mano. Ci sono momenti conviviali, veramente una sensazione di aggregazione, proprio di coesione fra le persone riesce poi a produrre quello che il Palio, tutti gli anni, mette in campo. E poi la cosa bella di Montrada Ioli è questa, che fino all'ultimo gioco del Palio siamo tutti in competizione. Ma alla sera della festa, post Palio, siamo tutti amici, si diventa tutti gambassini.